Cos'è la casa? È il luogo in cui si nasce, è il luogo in cui si cresce, è il luogo da cui necessariamente scappare, perché diciamocelo dopo un po', ed è quel luogo capace di risvegliare ricordi ed emozioni ogni volta che ci si ritorna. Questa è la tematica principale di Rosso Istanbul, un film diretto da Fersan Ospetek, uscito nel 2017 e ispirato all'omonimo romanzo scritto dallo stesso regista, però pubblicato nel 2013. Nel corso della storia, Oran, il nostro protagonista, viene letteralmente risucchiato da un vortice di ricordi. Il regista, invece, Denise, viene risucchiato da non si sa che cosa. Eh sì, perché a una certa Denise scompare e lasciando il povero Oran da solo con i fantasmi di ben due vite. La propria e quella di Denise. Due vite piene di madri senza figli. Perché la madre è quella casa da cui tutti i figli, a un certo punto, devono allontanarsi. Intanto una sera arriva lei e la mattina dopo Denise scompare. Che coincidenza, vero? È un dato di fatto. Che è arrivato lei e Denise è scomparso. Che volete insinuare? Quindi, lo avete capito, il tema principale di Rosso Istanbul non è questo raffreddore che mi ha preso poco prima di registrare questo primo episodio della rubrica, ma la nostalgia. Lei sa molte cose di me. Io molto poco di lei, invece. Io non conosco lei, ma la Nepal del libro di Denise. E poi gli scrittori attraverso i personaggi parlano solo di se stessi. Rosso Istanbul, lo possiamo dire, è un'esperienza di vita. Un viaggio attraverso un luogo che allo stesso tempo è familiare e straniero. Dove il dolore che risiede nel passato diventa rinascita. Un film che lascia allo spettatore un senso di malinconia, ok, però anche di speranza. Quindi dai, happy ending. Cioè, sì, un po' più sad che happy, però un pochino happy. Sì. Sai di che cosa si preoccupava mamma? Temeva che ti sentissi in colpa a causa sua. Ma tu, guarda, non voleva che tu vivessi con rimorso di non esserci stato quando stava male.